Il direttore è desiderato la cassa, ma solo se può evitare di fare commenti indesiderati sui miei piedini chiedendomi di vederli. I piedi sono miei e decido io. Questa settimana promozione speciale, ogni 25 euro di spesa, pagando altri 2 euro è possibile farsi sputare in bocca da una cassiera scelta. O dal direttore. Si ricorda ai gentili clienti che fare i TikTok in questo supermercato è severamente vietato e pulibile fin anche con la morte. Hartoni volari per persone oneste.